Rappresentano tanta paura, tanto terrore, rappresentano veramente un momento di ansia che è molto lungo poi recuperare da parte del proprietario, cioè non è che finito il botto è finita la paura. Ogni botto è una botta di terrore, torna anche quest'anno alla vigilia del Capodanno, la campagna dell'EMPA per dire no ai botti di fine anno. Ogni anno qui da noi arrivano i nostri ragazzi, escono diciamo nella notte, nella sera del 31, 10-15 uscite le fanno, ma questi cani poi spesso rimangono irrecuperabili per un lungo periodo della loro vita. Ad Arezzo è stata firmata dal sindaco Alessandro Ghinelli un'ordinanza che vieta l'accensione di petardi, giochi pirotecnici e classici botti nella notte di San Silvestro in tutto il centro storico, con particolare attenzione a Piazza Sant'Agostino dove si svolgerà la festa di fine anno. Limitare i botti al centro storico veramente ha pochissimo senso, bisogna avere il coraggio di fermare questi botti che non hanno proprio nessun significato, si può far festa ugualmente accendendo delle luci, delle girandole, ma proprio dei botti buttati per terra che non hanno così, veramente non fanno luce, non fanno niente, fanno solamente paura e terrore. Pensiamo che a ogni cane che scappa dalle campagne, io vorrei ricordare al sindaco questo, che un cane può provocare un incidente anche mortale, evitiamo il pericolo evitabile.